Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della sportiva Tempesta GTX, una scarpa pensata per il winter running e una scarpa pensata per correre su terreni fangosi e nevosi. Ma iniziamo subito la recensione perché c'è davvero tanto da dire. Inizio subito con parlarvi del peso di questa scarpa. Abbiamo una scarpa che nel numero 42 pesa 330 grammi e nel mio solito 47 ne arriva a pesare 420 più o meno. Abbiamo una scarpa con un differenziale di 10 mm tra avampiede e tallone. Una scarpa senza la struttura classica a linguetta sulla sua parte anteriore, ma come vedremo con una calzatura fatta a mo' di calzino. E direi di iniziare subito con la parte inferiore. Abbiamo suola alla sportiva, la Frixion Blue, quella con un ottimo grip ma una durabilità pazzesca. Veramente queste scarpe vi dureranno tantissimi chilometri. La Frixion Blue è la scarpa della sportiva con la durabilità maggiore di tutta la gamma. Abbiamo una suola con dei tasselli molto pronunciati, molto alti e soprattutto con un ottimo spazio tra l'uno e l'altro. Questo ci permette soprattutto durante la nostra corsa di andare a pulire quello che è il nostro battistrada per far sì che il fango e la neve mentre corriamo vadano via e non creino quel fastidiosissimo zoccolo sotto la nostra scarpa che praticamente annulla qualsiasi prestazione della suola. Abbiamo inoltre la possibilità di andare ad aggiungere dei chiodi venduti dalla sportiva sulla parte anteriore per poter correre sul ghiaccio. Questa suola mi è piaciuta veramente tanto, ci ho corso su del terreno ghiacciatino, neve ghiacciatina e veramente tiene tantissimo, davvero sulla neve è formidabile come suola. Passiamo ora a parlare dell'intersuola. Come dicevo abbiamo un drop di 10 mm e l'intersuola è fatta in Memex di EVA con l'aggiunta di un inserto stabilizer sul tallone. Questa tecnologia di iniezione del leva direttamente all'interno della scarpa fa sì che l'ammortizzazione della nostra scarpa duri di più nel tempo quindi è una scarpa pensata davvero per durare. È una scarpa comunque da una buona ammortizzazione, non ci si fa ultra assolutamente. Parliamo all'incirca di media distanza, attorno ai 40 km, 50 al massimo, ma non di più. E grazie all'inserto stabilizer posto nel tallone, come l'abbiamo visto sulle Cyclone, gli dà un'ottima stabilità nei tratti più impervi, nei tratti dove magari c'è il rischio che il piede un pochino svirgoli. Lo stabilizzatore sul tallone è una cosa che veramente mi piace tantissimo della sportiva. colma naturalmente che a lungo andare tende a far affaticare un pochino il piede perché naturalmente non è una corsa molto naturale avere uno stabilizzatore messo sotto il tallone. Passiamo a parlare della tomaglia di questa scarpa. Troviamo una tomaglia fatta in single mesh con tessuto anti abrasione e con una fodera esterna in Gore Flex Construction che è la membrana di Gore-Tex più malleabile, è quella che garantisce sia un'ottima traspirabilità che soprattutto un'ottima impermeabilità perché quando naturalmente andiamo a correre nella neve, la neve non ci deve entrare nel piede. Io ci ho corso davvero tantissima neve e questa scarpa di neve non ne fa entrare se non vedremo dal collare. È comunque una scarpa che tiene abbastanza caldo, nel senso io ci ho corso bene a zero gradi, quindi personalmente ve la sconsiglio d'estate perché se ci corro bene a zero gradi d'estate a 30 probabilmente dentro questa scarpa il piede morirà di caldo. Però allo stesso modo non ho avuto problemi di sudorazione del piede. Quando ho tirato fuori il piede stava bene, non era sudato, soprattutto non puzzava e quindi ho un'ottima fodera da parte di Gore-Tex. Passando a parlare del collarino attorno al piede, troviamo un sistema Sockshield di La Sportiva in cui, come dicevo all'inizio del video, non abbiamo una linguetta, ma questa scarpa calza come se fosse un calzino, quindi tutte le parti sono unite tra di loro. Questo sistema personalmente mi è piaciuto perché comunque va a chiudere molto il piede e ne evita tantissimo l'ingresso di sassi, neve e fango. Però allo stesso modo non mi permette, con l'aggiunta dei lacci, di poter serrare al meglio la scarpa attorno al mio piede. Dico la verità, bene, mi è piaciuta, ma arriviamo diciamo attorno all'80% della possibilità di serraggio massimo. E i lacci, fatti bene, avvolgono bene il piede. Abbiamo anche inoltre una piccola taschina dove andare a riporre il laccio una volta che l'abbiamo stretto. Però anche loro non mi sono piaciuti così tanto, non riesco a tirarli come vorrei. Comunque la scarpa è benissimo utilizzabile, però davvero non riesco ad arrivare a quella lacciatura perfetta che veramente non mi fa fermare ogni tot chilometri per doverli allacciare. È una cosa che va bene, ma secondo me si poteva fare meglio. Come dicevamo, sulla parte anteriore abbiamo la presenza anche di una ghetta, una piccola ghetta che grazie a questo sistema che va ad avvolgere la scarpa attorno al nostro piede e evita l'ingresso della neve. Però qui c'è un ma, ovvero evita l'ingresso della neve dal momento in cui non andiamo a correre su della neve abbastanza battuta, anche fresca, ma non deve superare l'altezza della nostra scarpa. Se noi andiamo a correre su neve che va a superare l'altezza della nostra scarpa, fidatevi, la neve entra. Questo non è un male, secondo me, perché comunque da questo punto di vista, se vogliamo una scarpa sul quale correre anche in neve fresca, alta, un metro, di da sportiva abbastanza identiche esistono le uragano, che hanno una ghetta completamente diversa, che lì veramente la neve non entra praticamente mai. Questa è una scarpa pensata per correre sulla neve, ma non troppo alta. Infine vi parlo del plantare di questa, la sportiva Tempesta, un plantare ortho-light ergonomic, classico di la sportiva, io mi ci trovo bene, nulla da dire, il piede non scivola. Una cosa da riportare però è che la parte anteriore dell'avampiede, la sportiva dice che è di grandezza normale, né troppo stretto né troppo largo. Vi riporto però che è di grandezza normale se andiamo a utilizzare naturalmente un calzino invernale. Se dovessimo utilizzare un calzino estivo, perché magari abbiamo un po' di temperatura un pochino alta, beh in quel caso lì allora il piede vi ballerà un pochino dentro, perché la scarpa tenderà ad essere abbastanza larga sull'avampiede. In conclusione vi consiglio queste scarpe? Sì, sì perché io mi ci sono trovato veramente bene. Se dobbiamo pensare di utilizzarle d'inverno in terreni fangosi, nevosi, queste scarpe sono veramente ottime. È una scarpa che consiglierei praticamente a tutti, sia dai più esperti, sia ai meno esperti. È una scarpa che a me personalmente è piaciuta veramente veramente tanto. Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, io vi ringrazio per averlo visto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!